I bambini sono eccezionali, ce li presenta? Come no! Allora abbiamo qui, buonasera innanzitutto a tutti quanti Certo! Qui abbiamo Laura Laura Mi chiami? Laura Ciao Laura Che giochi Laura? Poco da quest'anno Da settembre Da settembre, da settembre gioca Laura Poi? Marco Piccolo grande Marco 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 E gioco da settembre anche io Da settembre Da settembre Venga vicino Claudio Microfono poi Claudio Claudio Bravo Claudio Quanti anni che giochi? Secondo Secondo anno Secondo anno Piccolo ma è tosto Secondo anno Attenzione abbiamo un personaggio Qui che si chiama Valerio Detto? Lallo Detto Lallo Detto Lallo Lallo Ecco poi Poi abbiamo Andrea Andrea, da quant'è che giochi Andrea? Da settembre Da settembre Tutti i principianti Iniziamo da poco eh Che bella nitiata di questi personaggi Alessandro E gioco da ottobre Da ottobre Anche lui Tutti nuovi maestro eh? Tutti nuovi Tutti nuovi Va bene Poi Lorenzo È da settembre Da settembre Da settembre Lorenzo E' passato di qua Al team Capineri Poi Invece abbiamo Voglio fare una presentazione speciale Di questo ragazzo Che effettivamente Ha partecipato al campus Estivo Poi si è appassionato al tennis E devo dire E' migliorato tantissimo Oltre ad essere migliorato tantissimo E' un ragazzo molto intelligente E lui piace parlare E lui piace parlare Quanti complimenti Tanti complimenti Allora sono curioso Sono curioso Alessi Armanus Andreinier Soprannominato in questo campo Rasmussen Hai capito? Applauso ragazzi per Rasmussen Perché lo merita E' bravo Da settembre Ottobre del 2010 Ed eccoci con gli allievi Del maestro Bruno Capineri Ciao Bruno Ancora altre presentazioni Buonasera Altre presentazioni Siamo curiosi Il tennis femminile qui Aspiderina Allora Parliamo un po' Prestituziamo Effetto schiavone Effetto schiavone C'è l'effetto schiavone C'è l'effetto schiavone Ok Buono Giocatrice o giocatore preferito al mondo? Chi è? Federer Ti ricordi qualche giocatore o giocatrice Che ti piace al mondo A parte me A parte Bruno Capineri Chi è? Non le conosco A parte me non conosce Siamo qui per questo Bruno Per parlare Per fare anche qualche lezione di background tennis Con la tua Con la tua simpatia Le fotografie Eccetera Eccetera Livia E il colpo tuo migliore Livia? Lo smash Lo smash Il diritto Il diritto C'è un diritto notevole Notevole Oh finalmente Migliore giocatrice o giocatore del mondo? Maschio Nadal Femmina E femmina la Williams Maschietto che ti piace di più? Nadal E la femminuccia? La schiavone Che ti aspetti dal tennis? Cosa ti aspetti? Mi aspetti a dire Perché? Perché gioco a tennis? Perché? 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 È un'interrogazione È un tema Perché? Perché? Perché vengo a tennis? Perché? Perché piace e divertente E ti sembra poco? Beh Conosci qualche giocatore di tennis al mondo che ti interessa vedere? Giocatore? Federnadal, Murray Chi è? Federer Federer E di femmine la Williams Le femmine? Schiavone E ha vinto Roland Garros E non conosco nessuno 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 Bisogna che faccio qualche lezione teorica Vicino a Diokovic Andiamo riconosciuto Diokovic E orale Attenzione Allora Con oggi Fabrizio Sì Il mio giocatore preferito è Diokovic Giustamente E colpo preferito Lo smash Lo smash Attacca Mister Ace Dobbiamo trovare Qui Fa vedere un momento Molto bravo Molto bravo Allora Venite ragazzi Venite qui Venite qui Che salutiamo Il team Capinieri Ebbene Questa serata splendida Giocosa Con il team Capinieri Bene Un saluto Bruno Ci vediamo con tutti gli altri gruppi Ciao Ciao ragazzi Ciao Diokovic Ciao 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 Eccoli qua Ciao Ciao grazie